ciao amici la natura è straordinaria e durante la stagione fredda ci aiuta con tantissimi rimedi io ne ho proprio bisogno sono tutta uno standuto oggi vediamo una ricetta della nonna per fare in casa un potente antibiotico naturale ovviamente non si tratta di un vero antibiotico ma di un rimedio che sostiene il sistema immunitario e ci protegge dai malanni di stagione è una ricetta tradizionale fatta con aglio e miele se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace altri nuovi video e dopo questo video andate a vedere la playlist con tutti i consigli contro i malanni di stagione scusa ma questo aglio cosa fa di così speciale ora ve lo spiego uno studio svolto in danimarca tra copenhagen lingmi valbi e zurigo in svizzera ha scoperto che l'estratto di aglio è efficace contro le infezioni polmonari di un ceppo batterico comune e questo prova come mai l'aglio venga usato per tradizione come rimedio stagionale nel rimedio di oggi lo usiamo schiacciato e senza camicia cioè la pellicola protettiva esterna si mettono alcuni spicchi pelati di aglio e una tazza di miele in un vasetto e si lascia riposare chiuso per una settimana in questo periodo il miele assorbe i principi attivi dell'aglio come spiega la medicina ayurvedica e come lo usiamo è facilissimo si prende un cucchiaino di questo rimedio aglio e miele al mattino puro o sciolto in acqua calda se lo usate per sette giorni di seguito i risultati non tarderanno ad arrivare per conoscere tanti altri rimedi naturali iscrivetevi al canale e anche alla mia pagina facebook simona vignali naturopata e al gruppo trendy e sani su facebook per sostenere il mio lavoro restare aggiornati e chiedere consigli naturali inoltre in descrizione trovate il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook vivi consapevole e vivi meglio ciao 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 ciao